Non possiamo assistere ad una città sempre di più in balia di un'amministrazione comunale inadeguata che oramai ha perso sia il sostegno del Movimento 5 Stelle che quello dei cittadini gelesi delusi e pentiti di averla votata. Un'amministrazione che invece di valorizzare i manfri e cercare di fornire gli servizi e infrastrutture per renderla vivibile e fruibile dal punto di vista turistico e attrattivo la sottopone ad un'ulteriore ingiustizia sottraendogli l'opportunità di essere dotata finalmente di una rete idrica finanziata con fondi pubblici. È il pensiero di Carlo Romano del coordinamento dei coraggiosi di Gela che fa riferimento a Fabrizio Ferrandelli. Condivisa l'iniziativa del consigliere Salvatore Gallo che ha chiesto al presidente del Consiglio Alessandra Ascia la convocazione di una sise civica straordinaria ed urgente in cui il sindaco e la giunta comunale chiariscano se rinunciano ai fondi pubblici ripiegandosi privati per realizzare la rete idrica a Manfria. Condividiamo con Gallo, sottolinea la nota, la preoccupazione che i residenti di Manfria subiscano ulteriori mortificazioni e prevaricazioni e si vedano costretti a pagare di tasca propria una rete idrica già peraltro finanziata con fondi pubblici e pronta per essere realizzata. Chiediamo al lato idrico di Caltanissetta e a Caltacqua, complici involontari di questo possibile ulteriore scempio che la nostra collettività rischia di subire, dichiarire al più presto la loro posizione e, se è vero, che hanno rinunciato a realizzare la rete idrica con fondi pubblici facendola realizzare ai privati e caricandola sulle spalle di inconsapevoli ed inermi cittadini gelesi che si sentirebbero sempre più abbandonati da questa amministrazione. Ieri, in conferenza stampa, durante la presentazione del progetto del Consorzio Piano Marina che verrà gestito dalla Divina Acquedotti, il Sindaco Domenico Messinese ha chiedito che non sarà perso alcun finanziamento regionale. Stiamo solo accelerando la realizzazione della rete idrica Manfria che così potrebbe entrare in funzione già a partire dall'imminente stagione estiva. Il Comune di Gela ha concesso le autorizzazioni sulle quali Caltacqua non ha obiettato. La società spagnola, con le stesse somme del finanziamento della regione siciliana, potrebbe acquisire in seguito l'impianto il cui progetto era sovrapponibile a quello del 2007. L'investimento previsto dal Consorzio Gelese ammonta 1,3 milioni di euro e procede su una corsia veloce anche perché viene bypassato l'iter degli espropri. I terreni interessati dei lavori infatti appartengono in gran parte agli stessi consorziati. Si tratta di circa 330 associati che, secondo le previsioni del Consorzio Piano Marina, potrebbero sfiorare le mille utenze una volta ultimata la condotta.